Stiamoci da fare! Stiamoci da fare! Stiamoci da fare! Stiamoci da fare! Non l'abbiamo bucato! Centrato! 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 Carro nemico distrutto! Abbiamo un singolo danneggiato! Li abbiamo danneggiati! Un rattrapone tipo danneggiato! Centrato! 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 Ehi corpo! L'abbiamo preso! Li abbiamo appena gattiato! Ehi corpo! L'abbiamo preso! 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 Veicolo nemico distrutto! Carro nemico distrutto! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Pericolo nemico distrutto! L'abbiamo preso! Li abbiamo danneggiati! L'abbiamo preso! 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 Grazie a tutti. Centrato. Scorazzato nemico danneggiato. Questo è rimbalzato. Non l'abbiamo mucato. Non l'abbiamo mucato. Scorazzato nemico danneggiato. Scorazzato nemico danneggiato. Scorri. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.